Non vado al parco di Nino Funghi. Ok, gazebo di Glicine, siamo nel parco Rotondi, l'unico parco dove abbiamo potuto fare le riprese di tutta la zona dei parchi privati, perché Don Giacomo ci ha consentito. Questo è il gazebo di Glicine, con siepe in ligustro. Sono andato anche a guardarmi... Il ligustro è solo una pianta ornamentale, non ha nessun pregio. Però ci sono alcune piante che sono nei giardini che hanno delle cose molto particolari.